finalmente abemus impianto fotovoltaico dico finalmente perché è stata un parto molto lungo e durato più di un anno e mezzo tra gente che doveva venire a farmi i preventivi poi non è venuta gente che mi ha fatto preventivi pompati prezzi completamente fuori dal mondo con richieste economiche assurde gente che si è presentata poi non ha più fatto né preventivi in un impianto è successo di tutto finalmente poi sono uscito trovare un'azienda seria che mi ha fatto il preventivo con un prezzo giusto ma fatto l'impianto e finalmente abbiamo l'impianto che adesso vi mostro molto velocemente tanto più o meno sono tutti uguali in realtà l'impianto è operativo da 20 giorni è composto da 16 pannelli sul tetto 4 est e 12 a ovest perché il mio tetto è fatto in una maniera che praticamente era veniva bene farli così disporli così per un totale di 6 kg watt ogni pannello produce circa 400 watt un kilowatt sono mille watt quindi praticamente ogni kilowatt sono tre pannelli 66 kilowatt di contatore quindi 6 per 3 18 6 12 18 sono più o meno circa 18 pannelli insomma io non messi 16 perché mi ci stavano quelli in realtà ce ne starebbe anche qualcuno di più e i pannelli da da sopra arrivano giù poi li producono corrente continua arriva giù una canalina che entra praticamente adesso ve la faccio vedere entra da lì che quello lì è il muro maestro della casa la canalina praticamente arriva fino al diciamo la parete che fa da centrale elettrica qui abbiamo il ghetto i tesla che praticamente è il quadro elettrico eccolo qua praticamente questo è il quadro elettrico potete vedere la canalina poi appunto che arriva quella che avevo fatto vedere prima quindi entra qua qui c'è la batteria tesla powerwall 2 da 15 kilowatt effettivi poi sono 13,5 e qui c'è il inverter perché i pannelli producono corrente continua però noi nelle abitazioni usiamo la corrente alternata quella famosa inventata da nicola tesla tanto per intenderci quindi qui abbiamo tutto tesla abbiamo corrente alternata fatta da tesla e tuoi tesla batteria tesla inverter sola regge i pannelli sono sola regge e poi qui dove vedete ci sono dei fili a penzoloni e dove l'enel dovrà con calma sua venire a montarmi quello che io chiamo il conta kilowatt cioè quello che il contatore che praticamente conterà il kilowatt che io che io produrrò e non autoconsumerò e quindi cederò alla rete elettrica che mi farà un rimborso in euro l'impianto poi i cavi continuano tramite questa canalina e vanno poi al quadro elettrico generale dell'abitazione che si trova in un'altra stanza praticamente in sottoscala l'impianto nella sua complessità è sostanzialmente quindi molto semplice come potete vedere abbiamo un inverter è collegato al wifi di casa perché deve essere sempre connesso in rete per fare lo scambio dati l'aggiornamento dei firmware e tutto quanto qui abbiamo due led che adesso forse non si vedono i colori ma il led azzurro significa che il server che l'inverter è collegato al server e il led giallo quello sopra che pratica fisso giallo luce verde fissa vuol dire che l'impianto sta producendo ho potuto verificare che nelle giornate di pieno sole i 12 pannelli praticamente a ovest che sono quelli che dalle prime ore del pomeriggio cominciano a produrre praticamente producono su circa 4,6 4,7 ho avuto delle punte di 4,9 kilowatt e quindi diciamo la produzione è piena funziona e non ci sono problematiche particolari ovviamente io ho anche il wallbox tesla che lo potete vedere là in fondo adesso lo zoom il wallbox tesla con la mia tesla model 3 nera ormai che conoscete molto meglio di me e quindi insomma abbiamo tutto tutto tesla insomma un'altra cosa il wallbox che io ho installato in realtà è un wallbox di prima generazione quindi non è un wallbox wifi essendo connesso ad una rete praticamente a una linea sua perché è connesso direttamente attraverso un magneto termico al contatore principale quello che sostanzialmente c'è in strada la rete cioè l'app che monitora tutto l'impianto che poi sostanzialmente è l'app tesla che si usa anche per l'automobile per chi ha chiaramente un'automobile tesla non lo vede quindi quando io attacco la macchina praticamente lui non la non la vede perché ha una linea sua non è collegata al contatore generale della casa e quindi per poter fare una monitorazione corretta dei dei dati di consumo ci vuole il wallbox quello wifi che si connette quindi con l'inverter e fa lo scambio dati ovviamente io l'ho già ordinato eccolo qua il wallbox tesla di ultima generazione quello wifi e adesso sto aspettando appunto che vengano a installarmelo gli elettricisti in modo da fare giustamente potresti farlo anche tu devi solo sostituire quello vecchio con quello nuovo e poi fare fare la configurazione online per il wifi però insomma io preferisco farlo fare a gente che ha del mestiere niente quindi questo è l'impianto vi faccio l'altra panoramica lì vedete il gateway che fa anche da quadro da quadro da quadro elettrico eccolo qui qui abbiamo la pallone 2 da 15 kilowatt 13,5 effettivi qui abbiamo il l'inverter wifi e qui poi andrà il contatore della dell'enel per contare i kilowatt che io venderò alla rete posso dirvi che in una ventina di giorni ha già prodotto più di 500 kilowatt e quindi un'ottima produzione io ne ho consumati circa un centinaio scarsi e quindi insomma c'è già un'idea di quello che può essere la la resa di un impianto fotovoltaico di questo tipo quindi con 16 pannelli da 400 watt 1 tutti ovviamente dotati di ottimizzatore ogni pannello ha il suo ottimizzatore questo è fondamentale e un'altra cosa il governo italiano ha già fatto la legge ha aderito alla comunità europea di fare le comunità energetiche però non c'è ancora il decreto attuativo quindi non si sa ancora come fare quando ci sarà il decreto attuativo chi ha prossimo si possiede un impianto fotovoltaico potrà aderire alle comunità alle comunità energetiche quindi avere un secondo rimborso quindi oltre il rimborso che ti dà l'enel per quanto riguarda la produzione di corrente che tu poi cedi quindi hai il tuo autoconsumo tu che consumi la tua corrente che produci quella che non consumi la la cedi all'enel e più se entri a far parte della comunità energetica cedi e questo sostanzialmente significa cedere la propria corrente che non si consuma ad altre utenze che non hanno l'impianto fotovoltaico questo per evitare di mettere sotto stress la rete elettrica nazionale perché già ad oggi con tutti gli impianti fotovoltaici che esistono sulle case sui condomini praticamente c'è una sovra produzione di corrente elettrica che in alcuni momenti arriva a stressare la la rete elettrica nazionale e infatti bloccano la cessione della corrente e praticamente non viene non viene ceduta viene 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 solo dispersa se chiaramente l'accumulatore è già carico perché se l'accumulatore non è carico chiaramente la prima cosa che fa l'impianto quando produce la corrente è alimentare l'abitazione ricaricare la batteria ad accumulo e solo successivamente poi cedere quelle in eccesso ovviamente se si fa parte delle comunità energetiche si otterrà il rimborso facente parte della comunità energetica e il rimborso quello dei kilowatt ceduti a enel insomma alla rete elettrica nazionale mi sembra di avervi detto tutto l'impianto adesso poi in descrizione vi metto anche l'azienda molto seria molto competente che mi ha realizzato l'impianto vi posso dire che è una giornata scarsa di lavoro sono arrivati tre ragazzi sono arrivati con calma verso le 9 9 un quarto di mattina hanno fatto una piccola pausa pranzo verso mezzogiorno e mezza insomma alle 4 un quarto del pomeriggio l'impianto era già perfettamente funzionante cablato era già in rete produceva già i suoi 4 kilowatt e 6 4 kilowatt e 7 senza nessun problema questa è un'abitazione bifamiliare quindi diciamo nelle abitazioni relativamente piccole dove non ci sono grandissime distanze da percorrere con canaline cavi dove si conoscono tutti i pozzetti si sa dove partono le tubazioni dove arrivano insomma è chiaramente io gli ho fatto un po da cicerone ai ragazzi gli ho detto quelle tre cose principale che gli dovevo dire per il resto è un lavoro che si riesce a fare abbastanza velocemente nell'arco di una giornata può essere un discorso un po più complesso quando si parla di chiaramente condomini dove ci sono distanze diverse e situazioni magari più complesse chiedetemi se sono felice sì sono contentissimo sono felicissimo perché è una bella soddisfazione vedere che la propria abitazione può diventare produttrice di corrente elettrica quella che ci serve e anche quella che non ci serve che può essere venduta avere un rimborso è una bella soddisfazione una bella sensazione a me piace molto se poi avete anche un'auto elettrica da ricaricare praticamente chiudete il cerchio e vivete felici e contenti